Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Anita Olivieri, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello, si è trovata nuovamente al centro delle critiche. Dopo la fine della relazione con Alessio Falzone, ha ufficializzato il suo rapporto con Nicole Conti, suscitando polemiche sulla sua vita sentimentale. Tuttavia, Anita non ha esitato a replicare alle critiche ricevute. Recentemente, la giovane ha aperto una sessione di domande su Instagram, dove ha ricevuto commenti negativi sulla perdita di fan. In risposta, ha affermato che non erano veri fan e che preferisce perdere persone affette da fanatismo di coppia. La sua visione della realtà sembra essere distorta. Come dimostrano le sue risposte? Un altro follower l'ha accusata di approfittare di due fidanzati diversi per farsi pagare le vacanze durante l'estate. Anita ha risposto con sarcasmo, sottolineando la sua indipendenza e il fatto che preferisce spendere i suoi soldi piuttosto che dipendere dagli altri. La sua risposta ha evidenziato un atteggiamento sicuro e deciso di fronte alle critiche. In conclusione, Anita Olivieri continua a far parlare di sé per le sue scelte di vita e per le risposte taglienti che fornisce ai suoi detrattori. La sua personalità forte e indipendente sembra essere al centro dell'attenzione, suscitando reazioni contrastanti tra i suoi soldi.